E quindi è molto bello questo fatto. Io gli dicevo a Telecamere Spectre che avevo trovato una fotocopia di questo personaggio e avevo cominciato a incuriosirmi, però non riuscivo a capire bene che personaggio fosse, perché non era Totò, ma assomigliava. Non era Charlotte, ma gli assomigliava. E allora diceva non è Totò, non è Charlotte, è Piripicchio. Cioè Piripicchio in qualche modo si è ritagliato una sua parte, una sua parte nella cultura popolare. Stiamo parlando di una cultura strettamente popolare, anche con delle volgarità, attenzione. Ma i cabarettisti di oggi, di Zenning, voglio dire, ci hanno abituati anche a delle volgarità. Cioè sono quelli che solo sulla volgarità creavano. Solo sulla volgarità, quindi insomma se Piripicchio poi diceva che è battuto, faceva qualche gesto che all'epoca era irripetibile, cioè tipo il dritto, quel gesto così. Noi non potevamo dirlo ai nostri genitori, sono gesti che non si fanno, avevano anche ragione all'epoca, eravamo ragazzi. Però devo dire che questo è un personaggio genuino e comunque è stato apprezzato anche da grandi. Cioè anche ne parlano lì No Banfi, No Banfi se lo ricorda quando ero ragazzino a Canosa, diceva è un personaggio che ha segnato la mia infanzia. Lo stesso Mirabella, Michele Mirabella, era anche lui ragazzino quando Piripicchio girava per le strade della Puglia. Non solo della Puglia, lui andava in Sicilia e noi questo nel film lo documentiamo con una scena molto bella. Leggenda vuole che incontrasse spesso e volentieri Totò e Nino Taranto. Queste sono cose che mi ha detto Gino Pastore, che è un cantante folk anche lui, Barlettone, che ha conosciuto Piripicchio. Lui credo l'abbia portato per l'ultima volta prima che morisse in televisione, facendolo esibire. E mi disse che quando ascemmo nella televisione, che ascemmo in piazza a salutare tutti i cumbegni, io cerco di fare un nord barese, un bat, una dialetica della bat, gli dettano tanti di quei regali. Perché Piripicchio ci dice che i pali di chi ne tiene, che se lo cadde, non lo calzù. Per dire che aveva una grande, nonostante non stesse più bene, avesse una tale popolarità e un tale affetto, io sottolineo affetto del pubblico barlettano ma pugliese in genere, tale che glielo dimostravano in tutti i modi. Piripicchio pare che avesse una grande dignità, nel senso che se aveva modo, aveva qualcosa in più, lo dava. Lui diceva, ricordava sempre che per esempio in Sicilia, aveva conosciuto Franco e Ciccio, Franco Franco e Ciccio in Grassia, che erano gli esordi anche loro, lui un po' dispiaceo diceva, ti panica la mortadella, gli ho dato da mangiare il panino con la mortadella, poi non si sono ricordati di me, però sono passate gli anni e speriamo noi di dargli un contributo post-morte, ma un contributo a questo grande artista, popolare, semplice, volgare nel senso proprio del latino, di popolo. Ecco, quindi è nata un po' quest'idea di scrivere una sceneggiatura. Mi sono rivolto a due amici, che poi sono gli stessi che hanno sceneggiato con me il film di San Nicola, Luca Vessio e Antonio Garofalo. Io ho dato un input del soggetto, ho fatto delle ricerche, loro hanno creato una storia, un ragazzo che è giovane, fotografo che segue Piripicchio, ha un rapporto cattivo con il padre e poi nasce una storia di amicizia tra i due. Poi dopo ci siamo resi conto che in qualche modo questo personaggio in fondo è esistito ed esiste, ed è il fotografo Angelo Saponara, che da quando era ragazzo faceva filone a scuola, non andava a scuola per seguire Piripicchio e per scattargli delle foto. Infatti, l'ultima mossa è il titolo di un libro di Angelo Saponara che raccoglie, ed è edito dal Gerso Rosso, raccoglie tutte le fotografie scattate in tanti anni. Allora noi abbiamo preso questo titolo che ci piaceva molto, l'ultima mossa, e abbiamo messo però all'inizio Piripicchio, l'ultima mossa. E poi nel film si capisce, non si può svelare il finale, si capisce perché Piripicchio, l'ultima mossa. E quindi questo è un personaggio, come dire, che sembra avesse il dono dell'ubiquità, perché a qualsiasi persona io chiedo, di tanti paesi, al ristorante di Giovinato, oh Piripicchio, stava sempre qua. Sì, 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 la domenica lo trovavi sempre qua. Chiedeva al ristorante di Barletto, oh Piripicchio, sempre qua stava. In realtà lui si muoveva moltissimo, lo faceva uno spettacolino di un quarto d'ora, venti minuti a una parte, poi si muoveva, andava in un'altra piazza, a volte non aveva i soldi per il treno e cercava di fare la macchietta al controllore, e il controllore lo lasciava passare, oppure qualche volta si è ritirato nel camioncino di quelli che vendevano le nocelle, mi ha detto in un passaggio. Poi dobbiamo dire che Piripicchio è interpretato da Nicola Pignataro, che a sua volta, per me è un mito, insomma, io sono, come dire, cresciuto con il cabaret di Nicola Pignataro. Il teatro Purgatorio. Il teatro Purgatorio. E Nicola ha conosciuto, come dire, Piripicchio, ha fatto anche dei piccoli lavori insieme. Lui è stato felicissimo di interpretare questo ruolo. Ha una forte somiglianza, magari poi vediamo lungo, durante la trasmissione anche delle foto, delle immagini, del Piripicchio vero, e il Nicola Pignataro che poi lo ha interpretato in maniera straordinaria. Perché in questo film... Ma ciò che ne abbiamo chiamate, chiedo alla regia proprio di incominciare a mostrarci un po' di immagini così... Certo, le immagini che vedete in video, in movimento, cioè film, sono delle immagini, tratte dal video dei Cascarea, che è un gruppo folk di Corato, che ha dedicato una canzone a Piripicchio. Queste immagini sono poi a loro volta estrapolate da un documentario raccolto di immagini che il regista barlettano Daniele Cascella ha fatto, credo, negli anni 90. E quelle immagini... E qui vedrete delle foto di set del film L'Ultima Mossa, Piripicchio, L'Ultima Mossa. State ancora girando? No, no, abbiamo finito di girare già da tempo, abbiamo... Stiamo un po' ottimizzando... Ultimando il montaggio. Sì, perché è un lavoro in HD, poi il cinema non è facile, perché ora c'è un periodo di passaggio, come dalla lira all'euro, ora c'è dalla pellicola al digitale, ma al digitale in HD, in alta definizione, quindi c'è un po' questo passaggio. Allora si ha un po' paura di lasciare la pellicola, purtroppo costosa, anche se ha una qualità di colori, che probabilmente le ultime telecamere, la Red, insomma la Red One, le ultime telecamere anche di altissima tecnologia, in qualche modo probabilmente hanno, insomma, danno la stessa qualità, però forse non la stessa... E allora perché lasciare la pellicola? Solo per questioni economiche? Probabilmente sì, probabilmente la pellicola costa troppo. E il digitale tu lo registri, dopo 5 minuti puoi già montarlo, invece la pellicola bisogna poi fare lo sviluppo. E probabilmente anche come nella musica, voglio dire, una batteria digitale non ha lo stesso suono di una bella batteria vera, analogica, cioè registrata in analogica, però si sa che il digitale è molto più maneggevole, più semplice, più facile da... Vedi recuperato anche qualche parente di Piripicchio? Senti, è stato... Amici, amici, parenti no, so che ci sono dei parenti lontani, però non siamo riusciti a... Come mai, secondo te? Ma lui era un personaggio molto schivo, una persona che comunque, fuori dal lavoro, fuori dal... Stavo dicendo dal set, fuori dal suo set, fuori dal suo palcoscenico, cioè la strada, non aveva molte amicizie, a quanto pare. Una persona, come tutti i forzi comici, anche un po' triste a volte, non sempre, un po' triste. Lui è nato a Barletta nel 907, poi si è trasferito negli anni 50, credo, a Bitonto, poi si è sposato un andriese, che è morto nel 69, poi dopo dal 69 fino all'80 è rimasto e vissuto da solo. Quindi una figura anche, per certi versi, un po' triste. Beh, poi Charlotte, Charlie Cepin, dice tutto, lo dice lunga, Totò stesso. Lui ha raccontato che aveva questa amicizia con Totò, con Nino Tarranto, non sappiamo se fosse vero. Gino Pastore mi diceva che secondo lui era vero perché non era un uomo che diceva bugie per i picchi, cioè era abbastanza sincero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.